Benvenuti su Scienza Cosmetica. Oggi parliamo di gas e in particolare parliamo di anidride carbonica. Produrremo anidride carbonica a partire da dei semplicissimi elementi. Di cosa abbiamo bisogno? Un palloncino, questo è fluo, del bicarbonato di sodio, un imbuto che ci aiuta e dell'aceto. Basta una bottiglia con poco aceto sul fondo. Dobbiamo riempire il nostro palloncino col bicarbonato. In forma anidride carbonica che gonfia il palloncino. Con un semplice esperimento abbiamo prodotto un gas, la CO2, anidride carbonica. Alla prossima su Scienza Cosmetica!